Tom Hawkins pensava di avere già fin troppi guai, dopo essere finito in carcere per i suoi debiti di gioco. Invece il destino aveva in serbo per lui ben altre sorprese. Una prigione inquietante. Uno strano contagno di cella. Chi è davvero Samuel Field? Il misterioso caso di Samuel Field. Di Antonia Hodgson. Newton Compton. Editori.